E' un momento delicato però ne vogliamo venire fuori alla grande anche se sappiamo benissimo che non è semplice, però bisogna essere positivi e guardare avanti con positività, non c'è altra strada. Positività e la parola d'ordine di Fabio Moscelli ne verremo fuori da questo momento delicato e la convinzione del neo direttore dell'area tecnica della Fidelis che riavvolge il nastro e racconta anche le sue impressioni circa il derby giocato domenica scorsa al Degli Ulivi e perso di misura con il Foggia. Promuoviamo comunque lo spirito della squadra che lo ricordiamo ha giocato in dieci per quasi un'ora di gara. Sì sì, l'ho sottolineato più volte, credo che la squadra sotto questo aspetto abbia dato una grande risposta e noi siamo stati contenti perché è quello che volevamo e quello che cercavamo da loro. Cinque le battute d'arresto di fila per la Fidelis, altrettante le gare da giocare prima del transito al giro di Boa per la squadra di Raimondo Catalano. Il calendario è tutt'altro che un alleato dei Biancazzurri, Nocerina in trasferta domenica prossima alla sorpresa Sorrento tra 11 giorni al Degli Ulivi e poi tre derby di Puglia consecutivi, Bitonto e Tim Maltamura in campo a verso Taranto tra le Muramiche prima della sosta natalizia e di fine anno. Partite semplici che in questo campionato non ce ne sono, non possiamo permetterci di guardare quello che abbiamo dopo la Nocerina perché in questo momento qua ci dobbiamo concentrare solo su un obiettivo che è la Nocerina e basta. Ci prepariamo come sempre cercando di migliorare, di fare il passettino avanti perché comunque abbiamo bisogno anche di un po' di tempo anche se sappiamo che il tempo non ce n'abbiamo e dobbiamo cercare di fare i punti prima che si apre il mercato per cercare di intervenire il meno possibile ma qualcosina bisogna fare per forza. La sessione invernale del mercato che aprirà i battenti il primo dicembre potrebbe essere parecchio movimentata per la Fidelis, priorità destinata al Parco Juniores, anche quello senior in ogni caso dovrebbe essere coinvolto da interventi sia in entrata che in uscita. A livello numerico abbiamo questa difficoltà, mi sono messo dal primo giorno che mi hanno dato questa possibilità ringrazio la società della fiducia e sto già lavorando sapendo che non è semplice perché tutti quanti hanno la necessità di mettere dentro Ander Bravi e quelli che ce li hanno non se ne vogliono liberare però sto cercando in tutte le maniere per risolvere questo problema. La situazione, inutile nasconderlo, è dedicata alla classifica della Fidelis è complicata è uno dei momenti più difficili della storia recente del calcio andriese ora più che mai, insomma, serve compattezza di tutte le componenti per ribaltare la stagione. Conosco bene la passione che hanno gli andresi per la propria città però in questo momento qua l'unica cosa che mi sento di dire è di starci vicino sapendo che so benissimo che non è semplice però io mi prendo una grossa responsabilità fidatevi che sapete benissimo quanto voglio bene questa città che responsabilità mi sono preso e sono convinto che tutti insieme possiamo uscire alla grande.